L'ospedale di Polla ha salutato ieri il primario del reparto di neurologia, il dottor Pietro Greco, in ferie pre-pensionamento fino al 1 novembre, quando sarà ufficialmente in pensione. Una notizia resa ancora più triste dall'assenza di un sostituto. Solo due unità al momento restano in servizio presso l'unità operativa di neurologia, una delle quali a tempo determinato è la dottoressa Forziati vicina al pensionamento. Cosa ne sarà del reparto di neurologia, ma soprattutto cosa ne sarà dell'ospedale di Polla? Se lo chiede anche Valentino Di Brizzi, esponente della Lega Salvini Premier e presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, che per primo aveva manifestato preoccupazione per le sorti del presidio sanitario valdianese, a seguito anche dell'emanazione del nuovo piano ospedaliero, in cui il curto veniva indicato come presidio base e non più dea di primo livello. All'epoca dalla regione erano giunte giustificazioni parlando di mero errore formale. Un errore che per oggi mostra degli effetti preoccupanti se si pensa che un reparto importantissimo, come l'unità operativa di neurologia, eccellenza del territorio, si ritrova a dover fare i conti con riduzioni del personale che vanno ad inficiare sulla qualità del servizio offerto. Ieri il saluto del dottor Greco, pieno di amarezza e preoccupazione, e parlando anche di disponibilità a restare in servizio laddove fossero arrivate proposte. Il mio ciclo in neurologia, dichiara Greco, dopo 27 anni e 14 di direzione, è finito anche con rimpianto perché se mi avessero posto delle condizioni richieste sarei rimasto ancora. Mi restano i ricordi, il lavoro svolto con le difficoltà risapute, spero nella stima del mio reparto che è stato parte della mia famiglia e di chi mi ha apprezzato. Ho lasciato la responsabilità, continua, alla mia collega dottoressa Forziati, ma servono aiuti subito perché non possono essere chiusi le parti dopo tanti sacrifici. Sarebbero sconfitte pesanti per la politica e per i cittadini. Una politica che non risponde è uno schiaffo a chi si adopera e a tutta la comunità. Il futuro prossimo non è più rosio secondo quanto emerge, dato che a breve il curto dovrà fare i conti con altre partenze, alcune già avvenute, Su quanto sta accadendo al servizio sanitario locale è intervenuto il presidente del live ed esponente leghista, Valentino Di Brizzi, che salutando con profondo rispetto il dottor Pietro Greco, quale eccellenza della sanità valdianese ma anche caro e attento amico, ha ripercorso la vicenda dell'ospedale di Polla. La situazione del presidio valdianese, dichiara Di Brizzi, lascia intravedere un disegno di declassamento facilitato dall'emergenza Covid. Con il pretesto di dover predisporre con urgenza un reparto Covid, si è provveduto, senza riguardo verso altre esigenze sanitarie, allo smantellamento di interi reparti a ridimensionamento scellerato dei posti letto disponibili. Ricordando come il territorio è stato protagonista e valido aiuto, grazie alle tante donazioni a fronteggiare l'emergenza, sottolinea come la politica dovrebbe avere un ruolo determinante nella tutela del servizio sanitario. All'ospedale deve pensare la politica, rimarca Valentino Di Brizzi, e non possiamo consentire che reparti importanti siano ridimensionati in maniera così pesante. Ci dimostrino, conclude Di Brizzi, rivolgendosi ai rappresentanti politici insieme agli enti competenti, che hanno a cuore la nostra salute, provvedendo senza indugio alla correzione della classificazione riportata per l'ospedale Luigi Curto di Polla e per l'ospedale dell'Immacolata di Sapri nel piano regionale di riprogrammazione della rete ospedaliera. E si faccia una vera programmazione e organizzazione della rete ospedaliera che ci consenta finalmente di non dover più fare viaggi della speranza per ottenere quello che è il principale diritto costituzionalmente garantito.